Condanne fino a un massimo di tre anni in Cile per due colonnelli in pensione che nel 74, durante il regime di Pinochet, avevano torturato a morte il padre dell'attuale presidente Michel Bachelet, generale dell'aviazione fedele a Salvador Allende, Alberto Bachelet Martinez, non era sopravvissuto a una sessione di violenti interrogatori.